Gali e Ricciolo Bravissimo Stavamo dicendo con Luciana A parte la bravura Ma l'eleganza che ha questo ragazzo E' pazzesco, sei proprio bravissimo Grazie Adesso prepariamo Prepariamo Per la Vuole me? Vuole dirti qualcosa? Scusa, si, dimmi Ok Che dici? Ha detto Stop a tutte le guerre Ha detto stop Ai respingimenti Ha detto stop Alle ingiustizie Ha detto stop A quelli che dicono aiutiamoli a casa loro E ha detto stop, stop, stop Bravo Ricci Ricci, grazie Grazie Ricci Andiamo a sedere? Allora andiamo a accomodarci Guarda Gali, questa è la tua poltrona Ricci viene preso in custodia Trattatemelo bene Sì, lo trattiamo Ma da dove viene esattamente lui? Eh, la storia è lunga Non so se hai seguito sui social Sì, ho seguito sui social, certo Ormai è diventata famosa la storia È diventato Eh, viene dallo spazio Sì Semplicemente Però arriva dallo spazio e si siede vicino a Filippa Cioè, alla fine È così che funziona È così che funziona Guarda Guarda Ehi Ehi L'eleganza Vi dicevo prima Non è un dettaglio Sin da piccolo Tua mamma teneva molto Al tuo aspetto e alla tua eleganza Perché era un modo di Come dire Di integrarsi immediatamente meglio Chiaro Sì Un po' Secondo me l'ha fatto Perché lei è elegante di suo Io tutto quello Tutto ciò che ho imparato L'ho imparato da lei Tutto quello che so Da No, veramente È che poi crescendo Poi da bambini Da bambini non ce ne accorgiamo Però è incredibile Quanto impariamo dai nostri genitori in tutto Dal parlare Il flow Il ritmo Le influenze musicali Il gusto Infatti tua mamma Che abbiamo visto tutti A Sanremo Insomma Tu hai detto delle cose Meravigliose Di tua madre Insomma Ha espresso tutta la gratitudine A lei Per quello che Ha fatto per te Sai come si chiama Io mi chiamo Gali In arabo si pronuncia Rali Con la R Solo che in Italia è difficile pronunciarlo Rali Quindi tutti mi chiamano Gali Dall'asilo mi chiamano Gali E lei si chiama Amel Amel E significa Speranza Un destino nel nome Esatto Quindi tutto il resto È storia Senti Sai cosa Dicevamo anche oggi Come ci siamo visti Tu mi hai detto delle cose Con una semplicità assoluta Come diceva Luciana Cioè È incredibile che dire Stop alla guerra Stop al massacro Diventi una Una frase divisiva È del tutto Se ci pensate È del tutto inedito Quante volte Abbiamo fatto Da bambini I temi per la pace Le poesie contro la guerra Abbiamo Quante volte Improvvisamente adesso Diventa Contro qualcuno Ma la pace non è contro qualcuno La pace è per tutti No? Chiaro Come te lo spieghi? È quello che abbiamo imparato a scuola È strano quindi ritrovarsi oggi In un mondo così Fa un po' strano Cioè Ci hanno insegnato una cosa Per tutta la vita E Ad un certo punto Sentiamo che non si può E Ma Non Tu l'hai sempre fatto Poi Hai sempre Da sempre Sui tuoi temi Sì Chiaro Per me È la cosa più importante Cioè Qualsiasi cosa Dal successo Qualsiasi cosa Da condividere Tutti i beni Tutte le ricchezze Che abbiamo Su questo pianeta Sono Non lo sarebbero Non sarebbero delle ricchezze Se non sono condivisibili Certo E sono condivisibili Solo se stiamo tutti bene Se c'è pace Cioè Se in una stanza Siamo in dieci E sette persone stanno male Pure le altre tre Stanno male Possono stanno male Stanno male tutti Se invece In una stanza In una stanza Dieci persone Sette Stanno bene Vedrai che le altre tre Anche se stanno male Iniziano a riprendersi È importante È importante stare tutti bene Per quanto Sembri banale Senti Gali Gali Non ci riesco Gali 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 Vabbè Poi piano Piano imparo Ma come Che spiegazione ti dai tu a questo Dai successo Che hai avuto Che è come se fosse successo qualcosa Dopo questa canzone C'è una tua Autorevolezza Maturità Sei diventato Appunto Quello che per noi sono i cantautori No? Cioè sei diventato una fonte Autorevole Cos'è accaduto? Ci stavo pensando prima Perché Da Sanremo È veramente Sono successe tante cose Mi ritrovo in un momento In cui Diciamo che Fa parte di un processo Che è iniziato Un anno fa E Ho anche Ho anche di più Io ad un certo punto Dopo Dopo il mio successo del 2016 Ho fatto tour Ho fatto uscire tanta musica Rotto tanti record Ho fatto delle bellissime cose E ad un certo punto Ero annebbiato Da tutto il successo E Ad un certo punto Inizi a rotolare E vai avanti Di inerzia E non hai più tempo Per Per ragionare Per fare una vita normale Perché alla fine Siamo persone normali Io arrivo da un quartiere Sono una persona Comunque Con dei problemi Un quartiere difficile Certo Sì Un quartiere di periferia Di Milano Come tante persone E E Ad un certo punto Ho dovuto fare conti Con la mia vita personale Quindi C'è stato un momento In cui mia madre Si era ammalata C'è stato un momento In cui Ho dovuto andare Sono dovuto andare Dalla psicologa Comunque Hai affrontato Vita Esatto Vita normale E ad un certo punto Mi sono staccato Un attimino Dalla musica Perché Volevo smettere Di rotolare Volevo fermarmi Un attimo Ragionare Tornare Alla mia essenza Che dopo un po' Perdi sotto i riflettori Tutti i giorni E poi ho iniziato Da veramente Molto giovane Ed il successo Che ho avuto In quegli anni Era senza precedenti E di conseguenza Non avevi in qualche modo La consapevolezza Sì Non avevo nemmeno Le spalle larghe Abbastanza Per poter reggere Reggerlo Certo Tutto Questa foto Infatti Guarda Dice molto Questa foto Qui sei nel letto Con tua mamma Tu dici Sino a che non mi sono comprato casa Poco tempo fa Dormivamo nello stesso letto Sì a fine 23 anni Dormivamo assieme A letto Sì Se mi permetti È una lettura Banale la mia Però Quando anche io Mi sono chiesto Ma perché Gali Improvvisamente Piace così a tutti Da mia figlia A tutto il pubblico Che oggi pomeriggio Ti aspettava qui davanti Mi sono dato una risposta Perché secondo me C'è un momento In cui Davvero Si percepisce L'autenticità Delle persone Si può fare questo mestiere In tanti modi Recitando Interpretando Un ruolo Tutti i modi Nobilissimi Ma c'è un momento In cui invece Per alcune persone La fatica Del proprio vissuto La difficoltà E anche la La durezza Che tu hai attraversato Da ragazzino Ecco Quella cosa lì Se la si riesce A elaborare Come ogni Dolore Diventa un dono Pazzesco E secondo me Tu ci sei riuscito E tutti ti crediamo Grazie Che è una bella responsabilità Per te Grazie Io credo che L'arte L'arte esiste Per questo È una valvola di sfoga È una stanza creativa Per chi Soffre E capisce Che può trarre vantaggio Dalle proprie Sfortune Tra virgolette È l'unico L'arte oggi È l'unico Modo Che abbiamo Per far diventare Una pietra preziosa Al nostro dolore Capito E appunto Per collegarmi Al discorso Di prima Sento che Le persone Riescono a percepire Questo Perché lo sono Veramente Cioè Un anno Un anno e mezzo fa Mi sono veramente Fermato Con il mio team A ragionare Su come Tornare a fare Qualcosa di straordinario Che non è facile Uscire Dalla mediocrità Dalla superficialità E fare qualcosa Di straordinario Siamo in un momento In cui c'è tanta Superficialità E tante cose Che escono Sono mediocri E ci si accontenta Ma accontentarmi Non mi fa star bene E so che Per fare qualcosa Di straordinario Devo tornare puro E me stesso Il successo Ti porta Dopo un po' A toglierti Un po' Quell'innocenza E io non voglio Credere Che non si possa Rifare due volte Ha fatto una cosa È stato un esperimento Molto forte Su me stesso E sulle persone Che hanno lavorato Con me Per tutto questo tempo Che devo ringraziare Perché le ho portate Al limite Sono uno di quelli Uno di quei registi Che porta gli attori Al limite Che non sai Se hanno voglia Poi dire Lavorare con te Però Scopriremo Ci tengo talmente Tanto A dare A dare alla gente Il massimo Della mia arte Che sono dovuto Ho dovuto Lavorare molto Su me stesso Per poter creare Un qualcosa di speciale Senti Gali Ho fatto Una bellissima Intervista Al nostro Michele Serra Sul venerdì di Repubblica Un paio di settimane fa Prima di Sanremo Hai detto Scrivere trap Significa parlare Di quello che si vive E appunto L'autenticità Di qui sopra La trap È una pagina bianca Sulla quale puoi scrivere Tutto E immaginarti tutto La trap E cronaca Cioè appunto Sono i nuovi cantautori Di oggi Chiaro Sì Lo dico per spiegarlo I boomer come me Cioè quelli che sono vecchi Sono i nuovi cantautori Di oggi Perché Come esattamente Facevano i cantautori Di una volta Che usavano Il linguaggio Di strada Di quel momento Il codice Di strada Di quel momento I cantautori Di oggi Usano Usano il codice Per questo Tanti giovani Si ritrovano Perché Parlano come Nella vita vera Sì Io lo sento Nei testi di De Andrè Come lui parlava Come si parlava Nelle strade Cioè riesco a percepirlo Che era uno slang Presente in quel momento E poi anche lui Aveva uno sguardo Di compassione Cioè di Sofferenza Insieme Nel senso etimologico Del termine Aveva uno sguardo Di compassione Verso gli ultimi Che è una cosa Che ti appartiene Che ti appartiene molto Chiaro Perché sono stato Un ultimo Per tanto Tanto tempo Appunto Ma lo siamo Lo sono ancora Poi dico una cosa Banalissima C'è stato Adesso è stato Molto scalpore La frase In casa mia Al verso In cui dici Come fate a dire Che qui è tutto normale Per tracciare un confine Coline immaginari E bombardate un ospedale Ora È ovvio Ma insomma Forse non lo è Il 7 ottobre C'è stata una Tragedia infame Quello che Hamas ha fatto A quei ragazzi A quei giovani Israeliani È stato vergognoso È stato Terribile Una carneficina Pazzesca Questo però Non giustifica Naturalmente il dopo Ma soprattutto Non tiene conto Di un dato banale Questa frase Che ha scritto Gali È stata scritta Ben prima Cioè le canzoni Si scrivono Prima Di essere ascoltate Dal grande pubblico Quindi Un artista Sente in qualche modo Quello che è Il presente Ma se ascolti Nella canzone C'è scritto Tutto quello che poi È successo Anche a Sanremo E il giorno dopo Si C'è scritto Tutto quello che È assurdo Allora in poi Ascoltiamo con più Attenzione I testi Voglio dire Ancora una cosa Dedicata A tutti coloro Che Insomma A tutti noi Che a volte Giudichiamo Con troppa superficialità E troppo in fretta Alle persone Gali Per il suo impegno Nei confronti Dei migranti Nel 2023 È stato inserito Dal time Tra le cento Personalità Che potrebbero Plasmare il mondo Ok Per dire Quanto sono piccole E poi le nostre Polemiche Rispetto alla realtà Dei fatti La realtà È che nel 2022 Due anni fa Hai lanciato Una campagna Fondi Per Mediterranea Per l'associazione Mediterranea È risultato Che la barca Di salvataggio In appoggio Alla mare Ionio Di Mediterranea Si chiama Beina Come la canzone Che abbiamo ascoltato Prima Che hai cantato tu E grazie a Beina A novembre Sono state portate In salvo 227 persone Punto E basta Senti Grazie Mediterranea Dali Ultima cosa Adesso il tuo lavoro Riprende Quei live Nei palazzetti Ci sono delle date Sì Diciamo anche Delle date Inedite Che leggere tu Dai Così proprio Spoiler così Sì Certo Praticamente abbiamo Aperto il 29 ottobre Milano Che è nato Sold out velocissimo Il 28 pure Pensavo fosse sold out Poco prima di entrare 28 e 29 sono sold out A Milano Mi sa che devi farle un'altra Mi sa che manca qualcosa Ma siamo Siamo lì Si aggiungono Quindi A grande richiesta Abbiamo aggiunto Da novembre Firenze Roma 4 novembre Firenze 6 novembre Roma 10 novembre Bologna Quindi Non vedo l'ora Wow Grazie Gali Grazie di cuore Grazie di cuore Grazie Andiamo Alla prossima volta Gali a che tempo che fa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti